Bene, mi faccio fame? Trova qualcosa da mangiare, perché... Ah boh! Forse qualcosa c'è. Soldi? Dobbiamo fare la spesa qua. Come? Non c'è niente, che facciamo? Ci tocca trovare un lavoro. Vabbè, ma non sarà difficile trovare lavoro qua a Milano, credo. Oh, mi raccomando, non facciamo capire che siamo tamarri del sud. Va buono, va buono. Parla italiano. Italiano. Parla buono. Buongiorno. 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 Com'è tutto a posto? A posto, voi? Italiano. A posto, a posto. Stavamo cercando un lavoro. Ma qualcosa, se non ci ha posto qualcosa, no? Guardate, in questo momento ho lavoro da darvi, non ho. C'è un periodo di crisi. Ma proprio niente, niente. Proprio niente. Mi dispiace. Ne piglia poco a culo sto scemo, malato. Ma qualcosa, qualcosina. Ma è possibile che non dà un niente, niente. Qualche cosa? Ah, siete dal sud. Allora un lavoro per voi ce l'ho. Ah, perfetto. Iniziate subito. 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 Perfetto. Alla mezza. Grazie mille. Ma noi possiamo do sud, dobbiamo essere noi stessi. Ma non è la... Buongiorno. Hai visto? Bastava girare, girare e il lavoro al nord si trova. Bastava dire che siamo del sud. Sì, ma forse non hanno capito che siamo del sud. Forse non hanno capito che siamo del sud, 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 sud. Però l'abbiamo trovato. Vieni al lavoro. Va bene. Di palle. Buon lavoro. Buon lavoro, eh. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro.